Oggi siamo qui a parlare della nostra nuova Kia Sonic, motore 1.6 con 110 cavalli di potenza. La troviamo nell'allestimento Style, nell'alimentazione diesel, ed è una vettura che è stata immatricolata a novembre 2017 con 100.000 km. Abbiamo fare full LED, cerchi in lega da 17 pollici, un serbatoio da 45 litri e un fantastico bagagliaio della capienza di 332 litri, dove abbattendo sedili riusciamo ad arrivare fino a 1.155. Abbiamo poi sensori di parcheggio e retrocamera. L'abitacolo posteriore è molto molto spazioso, perfetto per lunghi viaggi in famiglia. Gli interni poi sono in pelle e tessuto. Troviamo il volante, volante in pelle con comandi al volante. Schermino dal quale possiamo gestire tutto l'infotainment e il nostro cellulare. Navigatore satellitare, cambio manuale, freno stazionamento manuale. Accensione però con start and stop. Vieni a visitare il nostro sito eratix.com per trovare questa e altre nuove offerte. Vieni a visitare il nostro sito eratix.com per trovare il nostro sito eratix.